Braccio di ferro tra maggioranza e opposizione sulla modifica al regolamento comunale della commissione disabilità. La giunta ha proposto l'inserimento all'interno della commissione stessa di un rappresentante dell'ufficio scolastico provinciale perché, secondo quanto riferito in consiglio dallo stesso assessore alle politiche sociali Antonello Sassu, è necessario legare il mondo dell'associazionismo alla scuola. Calafundoni contraria insieme ai colleghi del suo partito ha illustrato l'emendamento presentato e bocciato in quinta commissione la mattina che vorrebbe la specifica che i componenti esterni della commissione abbiano funzione di ausilio e supporto ma senza diritto di voto e in linea con il ragionamento della modifica proposta dall'aggiunta l'inserimento anche di un componente della TS che si occupi di tutte le disabilità. Fundoni inoltre nel suo intervento in aula ha specificato che la contrarietà era dovuta al mantenimento dell'autonomia della commissione stessa composta dall'associazione del settore e che enti come la scuola così come la TS devono essere enti interlocutori e non con diritto di voto. Un braccio di ferro in consiglio che ha visto due sospensioni dei lavori, una voluta dalla maggioranza, e una dal Partito Democratico. Alla ripresa dei lavori le dichiarazioni di voto hanno visto qualche scontro incrociato. Alla fine l'emendamento del Partito Democratico è stato bocciato dall'aula con 27 contrari e 6 favorevoli. Votato invece l'emendamento della maggioranza firmato da 26 consiglieri che di fatto accoglie un solo punto all'emendamento del PD, cioè l'inserimento oltre al rappresentante dell'ufficio scolastico anche quello della TS. La consulta dunque da 9 passa a 11 componenti.